buon ciao raga benvenuti dal vostro nanno della rete allora in questo video vabbè che sto sbustando un box di m20 boh mi sto sentito il brivido che mi esce qualcosa di buono per ora quante bustine mi sono rimaste tre sette dieci e mi sento da con questo brivido e ho detto faccio il video che se esce una bomba faccio le wii us faccio i soldi scherzo a fatti vediamo allora per ora è venuto come mitica il cavalcante delle spine vabbè la rara di chandra e kikar reggisauro come carte forte reggisauro la gabbia carnefice c'è un mazzo fly troppo figo quanti due skyland la cartodiosa forte sorvegliante a me le line carta bellissima da side l'idra che si usa il secondo secondo cartodiosa fortissimo e sa pure in hype sei euro forte forte un'altra carta con teros sarà fortissimo teros a carte incantesimo anche creatura perciò ogni volta un incantesimo e con oltre che fa costarune meno gli incantesimi va a fuoco si o ogni volta un incantesimo che controlliamo va messo nel cipitero lui prende un segnalino più lo più uno c'è una creatura verde che pure si pompa quando gli incantesimo mentre andando sulle foil vabbè un atto di tradimento brawl il gole bello il druido uno scarabea vicente fortissimo di side fortissimo l'overo vabbè evocazioni condivise ho perso un po' di tempo quanti due minuti andiamo a sbossare la bustina comune 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 non comune bello il marinaio tratto dai sogni però il marinaio spettrale poi 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 uno scorpione una vampira unico ancestrale un'altra la foil però nata di palpabile vediamo questa sensazione è troppo l'emozione e allora amicidio elementare rigoglioso barriera di svegliata al secondo del box e ho le line da lampa tutte le nostre magie pensa quando entra in gioco nei mazzetti appositi a volte che bellissima poi non ve le foil sono troppo sono stato un drogato di foil e ancora adesso se non vi siete andati a vedere la mia collezione foil di foil di un po' del quello che mi rimasta tutta la mia vita da giocatore sta in uno degli ultimi video 5 video prima di questo cercatelo e andatelo a vedere belle carte spero un e picurio del sangue è un guest è un guest sei un po' il guest andiamo avanti contorcere degno di candra forte gole di pietro un'altra candra una maschera una chiave multiforme o un cavalcante dell'alba me ne serviva uno però ne potevo fare pure a meno vabbè ho il terzo oppure questo fa riprendere in mano incantesimo perciò intero un bel bianco verde non ce lo leva nessuno incantesimo guanti di luce è bello pure questo una borsa conservante che cosa faceva ogni volta scarto carte e silico la carta pesco la carta poi scarto sacrifico bello si gioca in altri formati tre bustine per ora una mitica vediamo 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 se il brivido ormai figo volere degli dei capo banda sangue per rossa un'altra skyland in questo caso bianco e rossa allora chi vado sono uguali perciò facciamo così pure un fatto di video vedete qua sono i comuni non rare la c'è un deck vi arriverà la deck profile il brovolo di goals che non è uscito in questo momento però mamma mia che comandante forte l'ho sempre dovuto fare ma anche no ultima postina vabbè ho fatto un video comunque scrivete se volete qualche deck in particolare qualche video in particolare fatevi qualche domanda anche in generale che per finale anno inizio anno sto creato questo fatto del rispondere alle domande della fan base 3 mila cento trenta miliardi di persone e andiamo avanti con la capitale ispiratrice spiritello pacifismo sudegno di chandra cucciolo riconosciamo omicidio lo conosciamo un bel trollo per le scorze fatevi vedere comuni qua un ogre sfondatore una piazza fiaveggiante non c'è la foil non c'è la foil mi dò se è una mitica è una rara è un'altra borsa mamma mia e quindi non è andata molto bene ci sono stati tempi migliori una mitica due mitiche nemmeno un placework è mitico che figa niente proprio una candra no il bello è questo quando l'ho detto erano 10 bustine erano 3, 6, 9 chi manca ah la simmetria quando l'ho detto guardate che è uscita due borse un bucaniere la belle line forse però mamma mia e il cavalcade bianco che secondo me sarò contento di questa sbustata e niente dopo finisco mettere a posto grazie mille per la visione raga seguitemi supportatevi voglio bene al prossimo video ciao